Bene ragazzi, ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi ci troviamo in compagnia di Samsung Galaxy S5. È uscito oggi sul mercato italiano ed europeo e lo abbiamo subito qui per fare un unboxing velocissimo. Iniziamo subito ad aprirlo e troviamo al suo interno il nostro Samsung Galaxy S5 di colorazione nera. Veramente carino secondo me come colorazione nonostante all'inizio guardando le presentazioni e va fatto un po' storcere il naso. Il materiale dietro sembra abbastanza gommato mentre il davanti diciamo che riprende praticamente il Samsung Galaxy S4. Diciamo che è qualcosa di già visto come telefono ma che sembra comunque molto buono ma nella prossima settimana lo utilizzeremo approfonditamente e faremo poi una recensione completa per vedere come si comporta questo terminale. Nella scatola troviamo le classiche istruzioni la batteria che è già dentro al telefono i gommini per gli auricolari gli auricolari soliti in IR di Samsung il caricatore e il cavetto che però è USB 2.0 e non 3.0 nonostante il Samsung Galaxy S5 supporti la carica come potete vedere 3.0 Bene, questo è il nostro velocissimo unboxing vi faccio vedere anche cosa si trova all'interno della scocca abbiamo batteria possibili micro sim micro e micro SD chip NFC che è collegato alla scocca e casse fotocamera da 16 megapixel ricordo e sensore di battito cardiaco che andremo a testare meglio nei prossimi giorni bene, questo è Galaxy S5 spero di essere stato utile anche questa volta a presto con la recensione completa ciao a tutti ragazzi da Daniele